Sì, è una scelta, solo così, Anna, donna, mamma, il vostro paratore, vogliamo rinunciare. Signore e signore, chiamo tutti, fammi di buono e salve. Signore e signore, chiamo tutti. 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 un abbinato che viene dal cielo, un angioletto che va a rientrare perché i luoghi si pulissero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.